Passa con i soli voti della maggioranza mitinieri il bilancio di previsione del comune di Lauria per l'anno 2012, argomento in discussione ieri pomeriggio nel corso del Consiglio Comunale, ospitato dalla Sala Consiliare in via San Giovanni. Un bilancio che ha mantenuto i servizi degli altri anni, ha detto il vice sindaco Rosario Sarubbi, ma che ha risentito in particolare dei mancati trasferimenti statali, condizione questa che c'è in posto di fare tagli e a portare degli accorgimenti. L'esercizio si chiude positivamente, ha poi spiegato l'assessore al bilancio Domenico Di Lascio, con circa 10 milioni di euro di spesa corrente, ovvero la voce maggiore per le casse comunali. Oltre che dei tagli, l'ente Lauriotta ha dovuto tener conto della chiusura della discarica di località Carpineto, circostanza come affermato da Sarubbi che ha fatto impennare la tarsu del 16,8%. Purtroppo stiamo scaricando a San D'Arcangelo e questo, ha poi aggiunto il vice sindaco, ha inciso e non poco sui conti dell'ente. Dall'opposizione invece solo critiche, con i consiglieri pronti e decisi nel reputare il documento non aperto a interventi provenienti dalla minoranza. Un bilancio povero perché ci sono pochi approfondimenti e il lavoro delle commissioni è stato snobbato e questa la posizione assunta da Angelo Lamboglia di Laurea Libera Italia dei Valori. Dalla maggioranza non accettano le critiche e Rosario Sarubbi, nel farsi portavoce dei suoi colleghi, le rimanda al mittente. L'ideale in un momento di crisi congiunturale sarebbe collaborare, ha commentato il vice sindaco, e l'esempio viene dalla politica nazionale. Invece qui a Laurea la politica si spacca.